cari amici di youtube ben ritornati sul mio canale oggi vi farò vedere come affilare la lama del nostro tagliasiepi in questo caso abbiamo un tagliasiepi a batteria lo smontaggio diciamo della lama è pressoché simile a quella benzina andiamo a rimuovere il coperchieto inferiore quindi svitiamo le viti ed estraiamo la lama vi voglio far vedere in particolare come affilare la lama la lama come vedete ha tre parti sono due di queste lame che saranno quelle dove andremo a fare appunto l'affilatura e poi il supporto con la barra centrale che tiene le due appunto le due lame e questo è una protezione superiore delle delle lame che non in questo momento non ci interessa proprio quindi prendiamo le due lame utilizziamo sempre la nostra smerigliatrice con il disco abrasivo e poi andiamo a ripulire prima di tutto tutta la lama e dopo di che andiamo a filare questi dentini qua uno per uno da ogni parte sia per questo verso che per quest'altro verso in entrambi le parti della lama in modo che poi la lama andrà a poggiarsi sopra e andrà a sfregare e a tagliare ecco qua abbiamo rimontato le lame come potete vedere quindi vi ricordo che le lame vanno affilate in entrambi i lati sia da una parte che dall'altra e poi date una limata completa all'intera lama ora facciamo la prova di taglio e vi faccio vedere i rametti della pianta ecco qua taglio perfettamente netto con questo è tutto vi invito sempre a seguire il mio canale se vi è piaciuto il video lasciate un like per qualsiasi informazione commentate sempre qua sotto risponderò il prima possibile ciao e al prossimo video